Fiume Veneto ospiterà la celebrazione nazionale della 72esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro dell'Admil il prossimo 9 ottobre. Per la prima volta ad ospitare la cerimonia sarà un'azienda privata con la partecipazione del Presidente della Regione, Friuli Mezza Giulia, Massimo Iano Fedriga, il Presidente nazionale dell'Admil, Zoello Forni, il Presidente dell'INAIL, Franco Bettoni. L'associazione che conta 300.000 iscritti ha sottolineato come siano in aumento le denunce di infortuni sul lavoro, secondo l'INAIL infatti nei soli primi 7 mesi del 2022 gli infortuni sul lavoro a livello nazionale sono stati oltre 440.000 con un aumento del 41% e solo in aumento anche le patologie di origine professionale.